Allora Davide, sei pronto per la nuova versione del nostro format? Assolutamente sì, non possiamo di certo fermarci e comunque stiamo continuando a lavorare anche in smart working. Quindi facciamo dei piccoli test. Tu mi senti? Ti sento. La videoconferenza è pronta? Sì. Hai pulito la telecamera? Sì, vero? Ok. Tutto a posto. Direi che ci siamo allora. Perfetto, pugnetto! Ha! Ha! Ha!